E' un progetto che ci consenta di allontanare il rischio che nel frattempo che ricostruiamo le case magari un domani rimangano drammaticamente vuote. Non è solo una questione del cratere, non è solo una questione del 2016-2009, è una questione nazionale perché la ricostruzione riguarda un territorio così basso che si sovrappone a un pezzo consistente proprio di quell'Italia centrale che è la spina dorsale della nostra penisola. Da questo punto di vista dobbiamo fare tutti lo sforzo, avere le idee chiare, ma sappiamo anche che contrastare la crisi demografica vuol dire anche contrastare la crisi climatica perché l'abbandono dei territori dell'Appennino e dell'Elettroterra è il fattore che determina poi a valle tanti di quegli eventi catastrofali di cui abbiamo sentito parlare per ben 90 volte nel 2023. Campi Bisenzio, tutto quello che sta accadendo in Emilia Romagna, nasce dall'abbandono dei territori montani. Quindi presiederli, riuscire in qualche misura a gestirli vuol dire anche riuscire a risolvere una parte consistente dei problemi idraulici del Paese. Lei è soddisfatto del passo che sta tenendo la ricostruzione, perlomeno da quando è commissario? Sì, guardi, a ottobre abbiamo raggiunto il record delle liquidazioni fatte in favore delle imprese, quindi piedi per terra, senza vanità, però sappiamo che ormai abbiamo preso il giusto abbrivio. Questo vuol dire che i dati danno per certo che quell'opera di semplificazione e di vicinanza ai comuni, ai tecnici e ai professionisti era stata giusta per arrivare a vedere la luce in fondo al tunnel. Pensate, la scossa del 30 ottobre a Norcia è stata devastante ma non ha prodotto vittime. Quella del 24 agosto, che pur era importante ma meno significativa, almeno dal punto di vista della scala Richter, ha creato la tragedia che sappiamo proprio perché quelle case erano state concepite senza attenzione evidentemente verso i principi della sicurezza. Questo vuol dire che la sicurezza sismica è un grande dovere della nazione verso non solo i propri cittadini ma anche se stesso e verso il bilancio pubblico. 600 miliardi di euro noi abbiamo nel tempo dovuto spendere per ricostruire case che in Italia devono rispondere a standard di sicurezza. Io sono d'accordissimo con fare le case green, che siano perfettamente in linea con i principi efficientemente energetiche, però prima c'è la sicurezza, prima la sicurezza e poi il green, se no rischiamo di fare quello che accadrà alla prossima scossa perché vedete è inutile fare gesti apotopraici, ovvero essere superstiziosi e toccare ferro, ci sarà un'altra scossa, noi dobbiamo essere pronti alla prossima scossa e questo vuol dire mettere prima come dovere della ricostruzione la sicurezza. Inutile fare cappotti termici quando poi se c'è una scossa li devi togliere per poter vedere se c'è una lesione, quindi mettiamoci la testa e cerchiamo di dire la sicurezza prima di ogni altra cosa.